Sinceramente non è che me l'aspettassi, però è più di un periodo che credo sto facendo le cose veramente fatte bene e sto credendo tanto in quello che faccio, quindi credo il calcio non sia mai questione di fortuna o di caso. Sono stato ripagato e per questo ringrazio il mister che mi ha dato la possibilità. Io non devo stare a parlare di situazioni, però credo che fosse una cosa oggettiva, che 20 giorni fa comunque questa possibilità non ci sarebbe mai stata. Avevo due portieri davanti, bravi, perché credo che sono portieri molto bravi, però non mi è mai successa una cosa del genere in vita mia. È bello quello che mi è successo perché ho creduto tanto in quello che facevo, ve lo posso assicurare, ve lo dico col cuore in mano. Ho fatto di tutto perché potesse succedere, poi lo ripeto, che fosse difficile lo sapevo, però il lavoro alla lunga paga, soprattutto se è fatto con il cuore e fatto col massimo dell'impegno. Io intanto voglio ringraziare due persone pubblicamente che per me sono state fondamentali in questi due mesi e mezzo. Una è Liss Gomis, che lo spessore umano di Liss non ci si può rendere conto da fuori quanto sia importante nello spogliatoio, ma anche proprio nello spogliatoio interno di portieri, perché mi ha stimolato tantissimo e mi ha aperto un mondo che fino a prima veramente non pensavo esistesse a livello mentale, perché comunque mi ha veramente spronato a dare il meglio, perché è stato fondamentale davvero. Un'altra persona che voglio ringraziare pubblicamente è Nino Galli, che è il preparatore dei portieri, che molte volte sono persone esterne che magari non gli si dà il giusto valore, però lo ringrazio davvero tanto perché è la scuola dei portieri con la quale sono cresciuto e il lavoro che sto facendo con lui vedo che mi sta ripagando di soddisfazioni personali, che non è solo la partita in sé, ma anche nell'allenamento riesco a fare cose che prima non riuscivo più a fare. Quindi lo ringrazio pubblicamente perché anche lui mi ha dato una grossa mano per esprimere le mie potenzialità. No, ma c'è un sano rapporto, comunque avete visto che nell'arco della stagione ci sono stati momenti in cui giocava leva, io ero il secondo e lì comunque era fuori, poi ha giocato lì, c'era leva, io ero appalti. Non è una situazione normalissima nel calcio? Sì, sì, siamo d'accordo, però come avete visto voi negli ultimi anni il ruolo del portiere non è più quel ruolo gerarchico in cui uno qualsiasi cosa succeda non viene cambiato. Sì, magari succede, però ci sono anche casi come i nostri dove magari il mister ci può considerare comunque dei buoni portieri e magari se vede uno meglio rispetto all'altro gli viene data la possibilità. Quindi io credo che sia semplicemente una questione di momenti. Ecco, quello che vi ho detto prima e vi ripeto è che uno secondo me deve cercare di tirare fuori sempre il massimo, poi le occasioni e le situazioni, forse dopo a noi non ci si può fare niente. Sono decisioni che stanno all'allenatore e bisogna solo attenersi a quelle.